giornata nazionale del respiro e delle malattie respiratorie come anticipavamo prima di andare in pubblicità stamattina siamo felici di avere con noi in studio il dottor cristiano carbonelli pneumologo responsabile dell'unità di fisiopatologia respiratoria di casa sollievo della sofferenza per spendere due parole appunto a tema buongiorno dottore ben trovato grazie buongiorno a tutti gli ascoltatori grazie per la disponibilità essere qui oggi per parlare di malattie respiratorie soprattutto in una stagione come quella che ci apprestiamo a vivere che rappresenta uno dei grandi classici cambi di stagione dove i raffreddori sono già ormai all'ordine del giorno quindi le chiederei subito quali sono un po le principali malattie respiratorie le principali malattie respiratorie sono quelle che afferiscono appunto alla capacità dei polmoni di scambiare gas e quindi di assolvere la loro funzione e le patologie sono in crescita relativamente al ruolo tossico del fumo di sigaretta alle condizioni oncologiche che non vanno certamente a scemare si parla della terza causa di morte per le patologie respiratorie dopo i tumori e dopo le patologie cardiovascolari e ci sono patologie che appunto sono cronicamente dovute all'azione del fumo di sigaretta degli inquinanti e ci sono invece patologie più infiammatorie infettive che risentono come diceva lei molto bene appunto del ruolo della stagionalità delle infezioni del freddo per occupare per approfittare di un contesto fragile per dare delle manifestazioni infettive infiammatorie acute subacute che purtroppo rendono ragione anche di decessi circa 8 mila l'anno le morti attribibili soltanto all'influenza per esempio per cui non si fa mai abbastanza appello alla popolazione a vaccinarsi è l'ultima voce che è giunta alla nostra consapevolezza quella dell'infezione da virus covid da virus a sars cov 2 che è una un'emergenza che abbiamo imparato a conoscere come drammatica ma che è diventata una entità tassonomica anche lei responsabile di una cronicità e di una indicazione alla vaccinazione. Grazie dottore ecco sappiamo quanto sia importante la cura per qualsiasi tipo di malattia ma altrettanto fondamentale è la prevenzione lo è anche in questo caso? Certamente la prevenzione è fondamentale per le patologie respiratorie basti fare un esempio quello che oggigiorno aumenta nella cosiddetta studio della medicina di genere aumentano le espressioni sintomatologiche patologiche di malattia nelle donne questo perché era sconosciuto precedentemente alle donne l'uso di sigaretta è un esempio che può essere quello della nostra attività di visita quotidiana se tu racconti se tu chiedi a una signora di una certa età se ha mai fumato ti può rispondere con un sorriso se tu lo chiedi a una ragazza giovane lo stesso il sorriso ma è riferito alla necessità di non scrivere nel referto che si tratta di una fumatrice perché magari i genitori potrebbero accorgersene ecco questa differenza di genere questa evoluzione questo trend di aumento di fumo di sigaretta nelle donne caratterizza appunto l'aumento delle patologie respiratorie nel genere femminile e quindi la nostra attenzione il nostro impegno che deve purtroppo aumentare invece che ridursi perché il fumo di sigaretta non accenna a ridursi e la prevenzione attiene esclusivamente a questo tipo di impegno di ridurre il fumo di sigaretta Poi ci sta andando molto di moda anche la sigaretta elettronica Vero Non ci va anch'essa La sigaretta elettronica è un modo alternativo di indurre l'uso e l'abitudine al fumo Non riduce però il rischio tabagico, non riduce il rischio di danni dal fumo di sigaretta perché cambia solamente il modo di combustione che non è più a fiamma ma è un riscaldamento dei prodotti del tabacco che rilascia gli stessi prodotti chimici che rilascia gli stessi cancerogeni, che rilascia gli stessi mediatori infiammatori che poi dopo evocano una risposta immunomediata, cellulomediata, di catechine, di chemiochine, di prodotti appunto tossici per il parenchima polmonare e quindi la sigaretta elettronica purtroppo non riduce il rischio di danni al sistema respiratorio ma come a tutti gli altri sistemi che sono affetti dagli effetti tossici della sigaretta classica tradizionale Quindi non fumare decisamente meglio Purtroppo Bene, facevate un cenno all'emergenza Covid che fortunatamente ci siamo lasciati alle spalle però è ancora importante vaccinarsi Sì, assolutamente Il richiamo alla vaccinazione è per tutte le categorie che sono caratterizzate da un rapporto rischio-beneficio favorevole Il rapporto rischio-beneficio favorevole è la missione del medico che deve essere sempre capace di spiegare qual è il rischio associato a qualsiasi procedura e qual è il beneficio atteso e per la vaccinazione il beneficio è enorme e diciamo lo sbilancio rispetto al rischio della vaccinazione lo sbilancio rispetto a questo modestissimo rischio è assicurare una riduzione delle complicanze che sono associate a una manifestazione di febbre, di infezione da parte del virus influenzale o da parte appunto del virus del Covid questa riduzione del rischio, questa riduzione importante del rischio risponde a una riduzione del rischio di morte risponde a una riduzione del rischio di ospedalizzazione risponde ad una riduzione del rischio di scompensi multiorgano che è la febbre percepita come benigna, come curabile soltanto con una tachipirina in queste popolazioni, in queste categorie fragili over 65 o popolazioni con patologie croniche che le rendono particolarmente vulnerabili alla manifestazione influenzale e quindi il richiamo alle campagne vaccinali deve essere sempre stressato e deve essere confortato dalla spiegazione attenta e di una alleanza tra medico e paziente per cercare di ottenere il risultato che è quello del benessere e della riduzione appunto delle complicanze attese Tra l'altro la vaccinazione a tappeto durante il Covid ha fatto sì, se non sbaglio, che anche la stessa pandemia in realtà durasse per un periodo di tempo inferiore rispetto alle altre pandemie che abbiamo vissuto in epoche storiche differenti È stata un'epoca appunto di sconvolgente un'epoca sconvolgente sia da un punto di vista delle ricadute in termini di qualità di vita, delle ricadute in termini di salute di morti che sono state valutate ma è stata sconvolgente anche perché ha determinato un impegno contemporaneo, simultaneo di ricercatori in tutto il mondo ed è notizia di questi giorni il fatto che la stessa tecnologia che è stata utilizzata appunto per il vaccino del Covid adesso venga utilizzata per la prima volta in uno studio inglese in uno studio a Londra per la cura del cancro del polmone quindi lo stesso tipo di vettore vaccinale viene complessato con informazioni relative alla malattia, alla neoplasia per cui è stata una grande epoca di stravolgimenti sia emotivi sia della salute pubblica ma anche di una rivoluzione culturale che porta ancora oggi i suoi benefici E speriamo che continui così Chiudiamo facendo un piccolo focus sulla bronchiolite è disponibile il vaccino gratuito Quali suggerimenti possiamo dare alle mamme in questo momento? Allora, i suggerimenti sono quelli che verranno dalla nostra organizzazione sanitaria più importante appunto dalla Regione che ha accolto le indicazioni del Ministero della Salute e che le ha appunto trasmesse ai pediatri di libera scelta e ai punti nascita per vaccinare tutti i nuovi nati nel periodo d'ottobre a marzo ovviamente si tratta di una vaccinazione facoltativa ma assolutamente anche questa molto importante perché le bronchioliti da virus respiratoria cinciziale sono in grado di determinare delle manifestazioni clinicamente molto importanti e che non si limitano anche soltanto al periodo in cui il neonato è coinvolto dall'infezione ma che possono determinare delle cicatrizzazioni nei piccoli bronchi dei bimbi coinvolti che sono responsabili poi nel lungo periodo di manifestazioni asmatiche di manifestazioni di differente capacità di ventilazione polmonare e quindi tutta una serie di patologie che si possono prevenire appunto evitando l'infezione da virus respiratoria cinciziale in età neonatale Grazie dottore il tempo trascorso insieme è stato breve però ricco di contenuti e di significati io la ringrazio per la disponibilità e per il tempo che ci ha dedicato stamattina quindi ecco invitiamo alla prevenzione al vaccino e ad una vita sana che possa aiutarci a vivere meglio Grazie a lei Buon proseguimento di giornata e buon lavoro Grazie Grazie